Musica Tentato femminicidio, prende per il collo la moglie in casa, arrestato dai carabinieri a Mussolente e poi provvidenziale l'intervento della figlia 15enne. Il femminicidio di Liliana, uccisa un anno fa, soffocata con un cuscino nella sua casa di Tombolo, condanna a 19 anni in primo grado per il suo ex fidanzato. Infortunio mortale a Marcon, Damiano Mazzon, titolare dell'omonima officina meccanica, morto a 88 anni, schiacciato da un tornio che stava cercando di spostare. Doppia rapina a febbraio tra Verona e Sona, un distributore alla gioieneria del centro commerciale, arrestati due giovani veronesi, potrebbero essere gli stessi del Valle Center di Marcon. Torno al maltempo, in Veneto l'allerta passa da gialla ad arancione fino a domenica, a Vicenza ha aperto il centro operativo comunale, precipitazione in tempo in montagna. Continua lo sciopero oltranza, annunciato ieri dei lavoratori portuali temporanei, fino a che dicono non ci sarà d'accordo, prevista per domani un tavolo con i sindacati nazionali. Conclusa la campagna per la statua del Gattamelata, simbolo di Padova, presentati i risultati nei prossimi mesi, il progetto è dentro il 2005 l'avvio dei lavori di restauro. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione del Veneto, il nostro appuntamento regionale che apriamo, come avete sentito dai titoli, con la cronaca per il tentato femminicidio che c'è stato a Mussolente, ha aggredito la moglie in casa ed è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio provvidenziale, l'intervento della figlia minorenne. Spinta verso la ringhiera del balcone, afferrata con forza al collo, un tentato femminicidio che si è consumato nella notte del 13 ottobre a seguito di una lite avvenuta tra le mura domestiche, per cui sono intervenuti i carabinieri. I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un cittadino romeno di 39 anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio della moglie convivente, anch'esso una cittadina romena di 36 anni. Il fatto è venuto nella nottata di domenica, intorno alle 2, all'interno dell'abitazione familiare della coppia, sita nel comune di Mussolente appunto, quando l'uomo, diciamo in stato di alterazione e all'esito di una discussione per motivi di gelosia, dopo aver spinto con forza la donna sul balcone dell'abitazione, l'ha afferrata con forza per il collo e ha tentato di farla cadere, di spingerla nel vuoto al di là della ringhiera. Providenziale l'intervento della figlia minorenne della coppia, che svegliata dal trambusto è uscita in balcone, a quel punto l'uomo ha lasciato la presa, mandandosene dall'abitazione per poi rincasare dopo una ventina di minuti, dove ad attenderlo erano già presenti i carabinieri allertati dalla giovane, che l'hanno condotto in caserma per gli accertamenti. La donna è stata invece portata in ospedale, medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni. L'immediata predisposizione di un'articolata attività investigativa, coordinata anche dalla Procura di Vicenza, ha permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, di acquisire la denuncia querela da parte della donna e le sommarie informazioni da parte della ragazza e quindi raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, che per questo è stato dichiarato in stato d'arresto e tradotto presso la casa circondariale di Vicenza in attesa della convalida, che poi si è tenuta nella mattinata di martedì, all'esito della quale il giudice convalidato l'arresto ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza di genere registrato nel Vicentino, i cui dati forniti dal Comando Provinciale parlano di tre denunce al giorno da Codice Rosso, di cui l'invito alle donne a non sottovalutare nessun segnale. La strada migliore è sempre quella di rivolgersi alle forze dell'ordine. Noi siamo proprio preparati per questo. Se vedete che avete modificato le vostre abitudini giornaliere, se qualcuno vi controlla, se vi supervisiona, anche questo è un tipo di violenza. E non sottovalutate nessun atteggiamento molesto, perché potrebbe risultare poi in una escalation di violenze che è imprevedibile. L'invito è sempre lo stesso, denunciate. E ancora violenza nei confronti di una donna, perché parliamo del femminicidio di Liliana Cogita, è venuto un anno fa uccisa soffocata con un cuscino nella sua casa di Tombolo e è arrivata la condanna a 19 anni in primo grado per il suo ex affidanzato. L'aveva soffocata con un cuscino dopo un violentissimo raptus di gelosia scoppiato in questo appartamento di Via Vittorio Veneto a Tombolo, dove la donna viveva da pochi mesi con altre persone, tra cui l'ex. Era il 21 settembre 2023, quando la vita di Liliana Cogita, 55 anni, è finita. La donna era stata trovata nell'appartamento dopo che Youssef Moulay Mahid, 49enne di origine marocchina, aveva confessato tutto ai carabinieri della stazione di Tombolo, dove era arrivato dopo aver vagato in bici per ore. A poco più di un anno di distanza arriva la sentenza. Il PM aveva chiesto per il 49enne di origine marocchina una condanna a 24 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario. La Corte d'Assise del Tribunale di Padova le ridotti a 19. La gelosia, il movente dell'insano gesto è perché Liliana Cogita, dopo aver avuto una relazione con lui, aveva iniziato a frequentare un altro. Ancora una tragedia, parliamo di un incidente mortale sul lavoro che ha colpito un 88enne che è stato travolto da un tornio nell'officina che gestiva. Questa mattina, intorno alle 11, Damiano Mazzon, un uomo di 88 anni, ex titolare di un'autofficina a Marcon, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. L'incidente è avvenuto presso l'officina situato sotto la casa dell'anziano in via Bellini. Mentre cercava di spostare un tornio, Mazzon è stato travolto dal pesante macchinario riportando ferite gravissime che si sono rivelate fatali. L'88enne, che aveva da tempo lasciato la gestione dell'officina a un figlio, si trovava comunque spesso in azienda. Questa mattina io ero dentro in ufficio e ho sentito un tonfo. Dopo stava spostando, sì, appunto, questo macchinario e dopo non so sinceramente le dinamiche. Io sono andato là, ho visto la scena e dopo non si poteva più fare niente. Per chi lo voleva spostare? Da come ho capito era da buttare via perché non si usava più, era da buttarlo a ferro vecchio. Immediatamente sono scattati i soccorsi, i vigili del fuoco di Mestre sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e liberare l'anziano dal macchinario. I sanitari del 118, accorsi subito sul posto, hanno prestato le prime cure ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo. L'incidente ha attivato anche i tecnici dello Spisal per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell'incidente che ha scosso profondamente la comunità di Marcon. È una famiglia molto conosciuta in paese tra l'altro, come avete visto, l'attività commerciale è proprio nel centro, nel cuore della frazione di Gaggio. Una famiglia davvero unita e su cui tutta la popolazione di Marcon conosce e stima. La scarpa del nonno giace a terra, lì dove Mazzon amava passare del tempo accanto il nipote disperato consolato da amici e parenti. Non è la prima tragedia che colpisce la famiglia Mazzon. Nel 2008 la moglie di Damiano, Maria Ornella Guerra, perse la vita in un incidente stradale sulla brettella Miralanza. Era quel caro attrezzi, qua dell'officina a Mira e praticamente ha fatto lo scontro frontale e è morta la moglie. Che però aveva superato grazie appunto all'appoggio dei figli che sono sempre presenti. È veramente una famiglia unita. L'anziano lascia tre figli, Romina, Roberta e Riccardo. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Verona hanno stretto il cerchio attorno alle due rapine a mano armata che erano state consumate nel mese di febbraio a Verona e all'Ampugnano di Sona ai danni di esercizi commerciali. Due giovani italiani di 27 e 26 anni Gianniotti alle Forze dell'Ordine sono stati arrestati in entrambi i casi e avevano fatto irruzione tra visati e armati di pistola. Nel secondo caso in particolare è stata presa di mira la catena di gioielli di Valenza, la stessa svaliggiata pochi giorni prima da un commando al centro commerciale Vale Center di Marcon. Il bottino era stato di 4.900 euro. Adesso parliamo di calcio però non in chiave decisamente positiva perché parliamo ancora del caso di Michael Liguori, il bomber del Padova condannato in primo grado con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne e sentiamo il commento del teologo Don Giovanni Brusegan. Direi lo farebbe giocare? No, purtroppo perché io tengo per il Padova e mi fa piacere che vinca però ci sono dei valori e dei momenti nella storia personale e sociale in cui bisogna fare delle scelte che ti fanno sanguinare in questo caso non è così comunque fanno patire ma non devono fermarsi al coro di tifoserie o a valutazione di tipo moralistico ma constatazioni di una società che sta degradandosi che ha dei simboli importanti che devono essere positivi e non controproducenti. Scuote le coscienze il caso di Michael Liguori il bomber del calcio Padova condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una 14enne. Don Giovanni Brusegan tifoso biancoscudato è chiaro i calciatori come i preti incarnano dei valori e per questo hanno una responsabilità sociale. Credo che i calciatori come i cantanti come altre persone anche noi preti che rivestono dei ruoli e sono simboli per una società relativamente in disgregazione sono dei simboli che devono assumersi la responsabilità di realizzare il significato che rappresentano che realizzano. Una responsabilità sociale che ricade anche sulla società calcistica. Io ritengo che qui sia il giocatore come persona un discorso quello che ha fatto in sé che è più che negativo è come dire simbolico di un erotismo di una violenza di un'arroganza che sta continuando ad emergere nella nostra società che si presenta ancora maschilista e forse neopatriarcale. La squadra probabilmente ha pensato di avere uno sguardo di benevolenza rispetto al ragazzo di interesse rispetto al profitto calcistico ma credo che bisogna prendere delle polizioni radicali. Di per sé il fatto è condannabile è gravemente stigmatizzante e quindi anche chi lo ha compiuto dovrà sottomettersi non solo al giudizio della giustizia sociale ma anche quella dell'antropologia simbolica che rappresenta. Tornando al tempo a Vicenza ha riaperto il centro operativo comunale e intanto sono previste precipitazioni intense in montagna sorvegliato speciale il fiume Bacchiglione. Ma al tempo sale il livello di allarme il bollettino della regione Veneto indica dalle 9 di questa sera allerta idraulica e idrogeologica arancione nel bacino idrografico Alto Brenta Bacchiglione Alpone è previsto un innalzamento significativo dei fiumi principali della fascia pedemontana con problemi di smaltimento delle piogge e possibili allagamenti di interrati e sottopassi sotto osservazione la rete idrografica secondaria ma nelle zone collinarie e montuose c'è anche il pericolo che si inneschino frane Un'altra allerta meteo che attraverserà il Vecentino e che è stata preannunciata tutti i centri di protezione civile sono stati comunque allertati si prevedono piovese intensi nelle prossime ore se non altro fino alla tarda pomeriggio di sabato invitiamo quindi i cittadini ad adottare tutte le precauzioni che si devono adottare in questi casi quindi a prestare particolare attenzione in particolare per quanto riguarda il posizionamento delle auto e i viaggi se non necessari possibilmente evitarli seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito se ci saranno aggravamenti o situazioni contingenti il bollettino prevede in particolare tra questa sera e il primo pomeriggio di domani piogge diffuse più consistenti nelle zone montane e pedemontane acqua che poi scorrerà a valle a Vicenza sorvegliato speciale è il fiume Bacchiglione in città è stato aperto il COC il centro operativo comunale che monitorerà la situazione per tutta la notte dopo aver visto il bollettino della regione del Veneto che della serata di oggi metterà la nostra città in uno stato di preallarme sia sotto il profilo idraulico che il geologico con il sindaco abbiamo deciso di aprire il COC che si troverà in presenza alle ore 23 verso il comando della polizia locale è un momento in cui stiamo tenendo monitorata la situazione la preoccupazione più grossa questa volta ce l'abbiamo sul fiume Bacchiglione proprio perché vorremmo vedere i quantitativi di acqua che scenderanno in montagna abbiamo preallertato via acqua a MCPS valore ambiente ma anche il gruppo comunale della protezione civile quindi invitiamo i cittadini a tenersi aggiornati sui nostri soci e i nostri comunicati Stato e adesso lo sciopero annunciato dai lavoratori temporanei portuali di Venezia è uno sciopero che continuerà ad oltranza fino a che dicono non ci sarà l'accordo intanto è previsto per domani un tavolo con i sindacati nazionali il presidente di Blasio ha fatto un bando senza dire niente dopo che avevamo fatto un accordo sulle linee guida e disattende tutte le linee guida che abbiamo fatto l'accordo non è la prima volta che dice una cosa firma e dopo fa tutt'altro per questo i lavoratori portuali temporanei un centinaio circa dopo un'accesa assemblea con i rappresentanti sindacali hanno deciso di scioperare oltranza e chiedere le dimissioni del presidente di Blasio e della segretaria generale Scardino molte le critiche mosse al bando ritenuto poco chiaro in diversi passaggi ci sono temi importanti come la clausola sociale la clausola sociale è la garanzia che tutti i lavoratori che ipoteticamente passano da un'azienda A a un'azienda B siano tutelati e non ci sia nessuno lasciato fuori il problema nasce dai numeri effettivi che devono essere a Venezia e a Chioggia a Venezia dovremmo essere minimo 135 persone a Chioggia un numero molto inferiore rispetto a quello che ha fatto lui il bando dice 120-20 ma in realtà noi dovremmo essere 135 almeno come da direttive ministeriali siamo disponibili ad assumere gli esuberi di Chioggia però deve fare dopo ci deve essere due bandi distinti come scritto nelle linee guida Di Blasio ha cercato di rassicurare le controparti e chiarire i diversi punti annunciando anche di aver convocato un tavolo con i sindacati nazionali visto l'interesse sollevato da un bando di fatto apripista in Italia ma fino a che non ci sarà un'azione concreta lo scalo veneziano dovrà fare i conti con lo sciopero lo sciopero continua ad oltranza non c'è non c'è cedimento ovviamente appena ci saranno delle realtà insomma delle situazioni concrete le andremo a ovviamente ci confronteremo con i lavoratori nei prossimi giorni faremo anche delle iniziative sul territorio e nei luoghi di lavoro e cercheremo anche di coinvolgere gli altri lavoratori sempre ovviamente della realtà portuale ed ora la politica perché l'opposizione con i DEM è dura contro la manovra del governo solo bonus e proroghe dicono Anciveneto è più cauta perché osserva bisogna prima capire quali tagli subiranno i comuni manovra sulla sanità c'è chi parla già di blef le 30.000 assunzioni il rinnovo dei contratti la detassazione delle identità di specificità traguardi ambiziosi ma irraggiungibili senza un adeguato incremento di spesa promesse mancate per il Partito Democratico del Veneto che si aggiungono al DDL liste d'attesa che giace privo di investimenti così il segretario DEM Veneto Andrea Martella che ha annunciato per sabato l'assemblea congiunta del Partito Democratico sull'autonomia per le regioni Veneto Piemonte e Lombardia e che oggi ha duramente criticato la manovra ci sono solo 900 milioni cioè anche nella nostra regione arriverà pochissimo ho visto che c'è la protesta dei medici delle associazioni che dicono di fatto che ormai il Ministero della Sanità è un ministero senza portafoglio ma deve essere chiaro che senza risorse e senza un investimento sulla sanità pubblica non si danno le cure ai cittadini solo proroghe e bonus per Martella che ha ricordato lo sciopero nazionale delle prossime ore che coinvolgerà il mondo dell'automotive delle scuole dei trasporti abbiamo un trasporto pubblico locale con grandi problemi sottofinanziato in Veneto e questo determina delle risposte precarie ai pendolari agli studenti e così anche nella scuola più cauto Mario Conte presidente Anci Veneto ci aspettavamo sacrifici dice dobbiamo ancora capire l'impatto della manovra tendiamo a capire l'impatto sui nostri territori cioè a quantificare questi tagli e anche a capire se da qualche altra parte riusciamo a recuperare perché sembrerebbe che per esempio i costi di gestione dei minori stranieri non accompagnati tornassero in carico e in capo al governo e non più ai comuni che questo ci consentirebbe di liberare delle risorse per il sociale siamo un po' preoccupati perché i comuni veneti da sempre virtuosi non possono permettersi alcun taglio perché significa dover sacrificare i servizi a Padova ora si è conclusa la campagna diagnostica per la statua del gatta melata simbolo della città presentati i risultati nel 2025 via al progetto e ai lavori di restauro come si fa con un paziente bisognoso di cure il check up è stato completo e dopo un anno di esami e indagini accurate la diagnosi sullo stato di salute della statua del gatta melata è pronta le sue condizioni sono discrete ancora a pochi mesi e verrà completato il progetto esecutivo dei lavori di restauro del simbolo per eccellenza di Padova le condizioni sono considerabili assolutamente discrete e addirittura direi buone sul quadro emerso va sempre comunque relativizzata la campagna di indagini nel senso come ha detto il soprintendente ci saranno ulteriori indagini più approfondite endoscopiche un lavoro complesso quello eseguito in questi mesi da soprintendenza università e dall'istituto centrale per il restauro la statua infatti è composta da 36 elementi di bronzo fusi con distinte matrici in 600 anni non è mai stata restaurata e ha patito nel secondo dopoguerra lo smontaggio e un viaggio a Roma per poi essere ricomposta in modo erroneo ora per questo restauro il gatta melata verrà nuovamente smontato questi dati si stanno già tralasando in un progetto che dovrebbe dar luogo a lavori finalmente lavori all'inizio dell'anno prossimo il tema di dove lavorare ancora non è del tutto risolto perché abbiamo bisogno di smontare il cavallo dal cavaliere per andare a guardare lo stato conservativo delle zampe il prossimo passo sarà definire se i lavori di restauro verranno eseguiti all'esterno nel sagrato o in un luogo interno che potrebbe essere l'ex museo civico al santo chiuso da anni nel frattempo si stanno cercando finanziamenti già alcuni privati si sono fatti avanti il restauro dovrebbe durare circa un anno e poi il monumento equestre verrà di nuovo svelato e restituito alla città di fronte ad un monumento così importante non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista simbolico per la città di Padova per la Basilica del Santo sia una bella notizia quella di poter capire che si può intervenire e mettere mano davvero in modo fecondo in modo tale che un monumento così importante possa essere visto ammirato anche da chi verrà nei secoli dopo di noi ed è tutto per questa edizione del nostro TG Veneto vi ringrazio per averci seguito arrivederci arrivederci a presto